Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, bentornati qui su Apex Legends, secondo episodio, torno al duo bestiale su Apex Legends dopo il primo episodio che sono state le prime partite di approccio a gioco, dopo esserci imparati un po' i meccanismi abbiamo continuato a fare qualche partita e alla fine siamo riusciti anche a fare qualcosa di interessante Nulla di eccezionale, ma comunque io sempre prima di cominciare invito a passare sulla pagina Instagram, link in descrizione, banderino dati che compare in sovrimpressione che come sempre vi dice qual è il nome del perfetto di andare a seguire, vi lascio a questa partita e noi ci vediamo alla fine per i saluti finali E' visto che la tua è OP, the ulti Eh si, lo so E' alla Storm Ok no, è... è l'approvvigionamenti Eh vabbè, è l'attacco con i razzi, no? Con il mortaio No, no, quello lì è... No, quella dell'Hufflane è l'approvvigionamento Ah beh, si è vero, c'ho l'Hufflane Cazzo, so pensare a quello di prima io La Gibraltar E' quello lì, chiamalo subito così, magari c'è un paio di... Sì, c'è un paio di scudazzi Sì, c'è un paio di scudazzi Sì, c'è un paio di scudazzi Sì, c'è qualcuno? Sì, sì, sì Sì, sì Oh Eh? Eh? Va bene Ho massacrato Sarà qua dietro, Alex Aspetta, c'è un altro team? Stai sicuro, stai sicuro Giro di te, Alex Giro di te Eh, cazzo Va bene Sono compatti, che cosa ho cazzo, eh? Scusi, eh Eh, t'ho chiuso, scusa Capito, mi chiude fuori, lei Sì No, no, acabo io Sì Oh, se devo, io stai a sparare Ok Ok Ah, ok Dai, questo sta, non spudo sta Mamma sta Eh Tu sta? Oh, bella Oh Oh Cazzo Vedo una minchia Sala sopra Eh E allora Oh figlio, te puttana, maledetto Cazzo Eh, madonna Occhio, occhio, occhio Aspetta, sei indietro, sei indietro, sei indietro Ma io me l'ho sempre pigliato, come può essere che non l'ho mai ammazzato? Eh, non ce la faccio Fa il culo a me L'hai fatti, l'hai fatti? O no? No, 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 scappai Ah, cerca di alzarmi E' un fenomeno questo Bebìa, piz Ah, quello deve stare in aria alzata Ma ce l'hai le cure? Nella roba tua Io ce l'ho Ah, allora sta a posto Io non ti ho tolto niente, eh Ma che davvero? Quanto va a sparare a me? Mettato, 25 Oh Eh, granate però Oh, ma che è? Ma che è? Che cazzo era? Ma che cazzo? Tu da sopra non li pigli Tu da sotto non li pigli Ma ti servono colpi pesanti a te? Se c'è la flatline Eh, c'è un 160 Ma adesso no ancora A me mi servono colpi energetici Eh, no, non l'ho mai presi Ma c'hai l'ultimate? Oh No, ancora no 98% Ah, perfetto Quanto no Appena stavo safe Da usi Così ci pregamo Tipo qua? Sì, lì E trovo le celle scudo Ok Senti, ma io chiedo un altro approvvigionamento Ma che cazzo mi chiede a me? Lo vuoi fare? Fado Potrebbe uscire lì, eh? Eccola qua Ok Io apro sempre la base tu sta le bende Sbagliato Ma c'è sta? Tu hai aperto tu? Le bende Anche prima ho aperto C'è la scudo Eh, va bene Vabbè, oh mica Qua c'è sta L'energia Qua è un altro avoc Oh, beccati, è davanti Sì Ok Non me l'ho da trovare insieme di qua Sicuramente che stanno dentro la safe Sì, sì, sì A sta finestra no, ma a quell'altra sì Lo so, vedo un attimo da qua Magari o la zona Se vede qualcuno curio Ok, la... la l'ho visto La l'ho visto, ho acciucato Questi dovrebbero attraversare il ponte a breve Oh no? No Andrò a sparare? No, no Oltremmo Sotto c'è una posizione Eccolo, eccolo Oh ma non mi sparo Quello è andato eh? Io ci vado Che c'ho la ulti che l'immagino quella dentro Oh 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 Occhio dietro Alex Una terra Buono Ah cazzo mi ha rallentato eh non potevo fare niente Do sta? Sta qua da me qua da me qua da me qua da me Rialzami mi puoi rialzare mi puoi rialzare? Sì sì Speriamo che questo sovrappive Ok l'ha ammazzato bello 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 Aspetta che mi devo un attimo recuperare Ok l'ha ammazzato bello 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 Buongiorno GG man GG Ah gg Ah ragazzi è rimasto da solo quest'altro Tattica vedi? Sì Abbiamo cercato tranquillo L'ha ammazzato L'ha ammazzato L'ha ammazzato L'ha ammazzato L'ha ammazzato E' un fenomeno Che finirà a provarci E tornerà su Apex Legends Quindi vi lascia un like Un commento Iscrivetevi Se non è ancora fatto Ci vediamo al prossimo episodio di Apex Legends E a un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti